Gentili telespettatori, buona giornata. Laura Boldrini si scaglia contro Sanremo 2021 e replica a Beatrice Venezzi dicendogli direttrice è bellissimo, rifletta sui sacrifici delle donne. Di cosa stiamo parlando? Beh, Laura Boldrini replica appunto a questa Beatrice Venezzi. Lei è il direttore d'orchestra che ha condotto la prima parte del festival di Sanremo insieme ad Amadeus. La Venezzi ha detto molto chiaramente di voler essere chiamata direttore d'orchestra e non direttrice d'orchestra. Sì, diciamo che ci sono molte donne che dicono io voglio essere chiamato con il nome che è sempre esistito. Dice direttore d'orchestra io voglio essere chiamato così. Direttrice d'orchestra sembra un'altra cosa. Le direttrici dell'autostrada, le direttrice d'orchestra gli suona male. Un po' come ingegnere. Ingegnere cosa diventa? L'ingegnera. L'architetto diventa l'architetta. Il ministro che diventa la ministra. Ecco, ci sono alcune parole che l'Accademia della Crusca aveva fortemente sconsigliato perché assomigliano ad altre parole. Dire minestra, ministra, minestra. Il ministro che diventa ministra assomiglia a minestra. Quindi l'assonanza con altre parole fa diventare il termine poco conveniente e ridicolo. Come ad esempio l'architetto, l'architetta. Ma chi è chiamato l'architetta? Non ha senso. Capite che ci sono alcune parole che trasformate non hanno senso. E poi sì, le professioni venivano spesso dette al maschile perché la storia è lunga, perché i lavori erano in mano all'uomo, l'uomo che andava a lavorare, la donna che stava a casa. Un po' stereotipi e archetipi del passato che si vogliono cancellare per la parità di genere. Ed è anche giusto. Però ci sono alcune cose estreme che diventano poi ridicole. Anche questa polemica è ridicolo. Se la direttore d'orchestra vuole essere chiamata così, poi si può anche chiamare la direttore d'orchestra. Non si potrebbe. Per esempio, direttore è il direttore. L'articolo è il direttore. La direttrice. Ma il termine direttrice non è propriamente nuovo. Si dice la direttrice della scuola. Dov'è la direttrice? La dirigente scolastica. La direttrice. Quindi in alcune cose già si utilizza spesso la direttrice, no? Però probabilmente il termine direttrice d'orchestra forse fa ridere direttamente Beatrice Venanzi. Io credo che alcuni nomi, piuttosto che cambiare la lettera finale, no? Direttore-direttrice. Poeta-poetessa, no? Direttore-direttrice. Forse si potrebbe cambiare l'articolo. Al posto che dire la direttrice d'orchestra si dice la direttore. La direttore d'orchestra. Ecco, grammaticalmente non ha senso, perché andrebbe a stravolgere la grammatica italiana. Però dice il direttore d'orchestra, la direttore d'orchestra. Secondo me questa è la soluzione. Ma la Venezzi ha detto molto chiaramente di voler essere chiamata direttore, non direttrice. Dice la posizione ha un nome preciso e nel mio caso è quello di direttore d'orchestra. Non ci sta però la Boldrini che dice non può finire così. Non può finire così? Da presidente della Camera decise di lanciare i mestieri declinati al femminile nei media. Il femminile dice è bellissimo, commenta la Laura Boldrini, che non si dice la Laura, si dice Laura Boldrini. Più che una scelta individuale della direttrice d'orchestra Venezzi, dice la Boldrini, è la scelta grammaticale a prevalere. E quella italiana ci dice che esiste un genere femminile e un genere maschile. A seconda di chi riveste il ruolo si fa la declinazione. Chi rifiuta questo lo fa per motivi culturali, ha spiegato la Boldrini in un'intervista alla DN Cronos. Poi ha continuato dicendo che la declinazione femminile la si accetta in certe mansioni come contadina, operaia, commessa. Non la si accetta quando sale la scala sociale, pensando che il maschile sia più autorevole. Invece il femminile è bellissimo. Ma non è che il maschile è più autorevole, è che da da sempre nella società arcaica dove dominava comunque l'uomo. Era l'uomo che lavorava ed era l'uomo che occupava tutte le posizioni lavorative al maestro. Una volta c'era solo il maestro. Adesso si pensa che da sempre è esistita la maestra e poi si è aggiunto il maestro. Invece no. Tanto tempo fa era il maestro. Adesso ci sono più maestre che maestri. Ma era il maestro. Quindi non è come dice la Boldrini che più sali la scala sociale. Qualsiasi lavoro era declinato al maschile. secondo lei si tratta di un problema serio che dimostra poca autostima. Ma qui no. Adesso poca autostima. No. Questa è una sciocchezza. Dai. Ecco. Quindi sta offendendo il direttore d'orchestra dicendogli che ha poca autostima. Dice inviterei la direttrice Venezzi a leggere cosa dice l'Accademia della Crusca la più alta autorità linguistica del nostro paese. Se il femminile viene nascosto si nascondono tanti sacrifici e sforzi fatti. Ha aggiunto la Boldrini. Continuando a rivolgersi alla protagonista della quarta serata del festival. Ha detto mi permetto di invitarla a riflettere su queste cose anche perché non è affatto brutto o cacofonico direttrice ma rappresenta l'affermazione di un traguardo. Spero si renda conto che usare il femminile possa aiutare tante ragazze ad avvicinarsi a questo lavoro che per secoli è stato di soli uomini. Quindi la Boldrini continua nella sua battaglia personale. Sì lei dice questo termine non è cacofonico. Sì siamo d'accordo. Non stona. Ecco. Però altri termini l'Accademia della Crusca dice che è meglio. È meglio. Come diceva grazie a tutti per avermi ascoltato. Vi invito ad iscrivervi al canale. L'iscrizione è gratuita. Siamo anche in Facebook e in Instagram e nell'altro canale di YouTube Tele Italia Seconda Rete. Grazie a tutti per avermi ascoltato. Ci vediamo tra 20 minuti per un altro video qui sul canale. Arrivederci a tutti di nuovo. Grazie a tutti.